Per la pasta frolla fine servono 400 grammi di zucchero a velo, 160 grammi di tuorlo d'uovo, 600 grammi di burro, 1 chilo di farina 00, una bacca di vaniglia barbon come aromatizzazione, buccia di limone quanto basta e 2 grammi di sale. Tutti questi ingredienti si possono cambiare con altri ingredienti sempre rimanendo nel tema zuccheri grassi e farine. Allora io partirei prima di tutto dal burro, perché il burro bisogna portarla a una temperatura di lavorazione idonea, così è troppo duro. Io cerco di dare sempre due soluzioni, una potrebbe essere quella per ammorbidirlo, di usare la carta da forno, mettere i pezzettini di burro che arrivano dal frigorifero, metterci sopra l'altro foglio di carta da forno e con il mattarello dare dei colpi con il mattarello in modo da ammorbidire il burro, in questo modo. La seconda alternativa potrebbe essere quella di andare al microonde, quindi preparato il burro, prepariamo la farina, farina che dovrà essere una farina debole, debole significa povera di proteine, quindi poco glutine tanto per chiamarlo col termine corretto. Se tacciato la farina sul tavolo creiamo una fontana, naturalmente questo è il sistema per farlo a mano. Mettiamo nel centro lo zucchero a velo, nel centro della nostra fontana, mettiamo i tuorli d'uovo, tuorli d'uovo che ci possiamo preparare anche in anticipo, l'importante è coprirli con della pellicola in modo che non facciano la pellicina in superficie nel centro e andiamo a mettere anche i condimenti o aromatizzazioni meglio ancora, che sono in questo caso la buccia di limone, la nostra vaniglia come aromatizzazione sempre, la apriamo a metà, abbiamo fatto vedere più volte come si fa, naturalmente la vaniglia deve essere morbida, guardate quanta polpa, questa è la polpa di vaniglia, l'interno della vaniglia, per una dose del genere basta mezza bacca assolutamente. A questo punto iniziamo con l'impasto, ci prepariamo con uno tarocco di plastica e iniziamo a miscelare i tuorli d'uovo con lo zucchero a velo con la mano, così senza prendere la farina. Cerchiamo di lavorare solo zucchero a velo e tuorli. Adesso andiamo a inserire il burro nel centro, in questa pastella di zucchero e uova che abbiamo creato. Schiacciamo in questo modo, in modo da mischiare il burro ai tuorli d'uovo e lo zucchero. Come dicevo prima, il burro dà la friabilità e lo zucchero dà la croccantezza, quindi io posso giocare questi due ingredienti aumentandoli e diminuendoli, per avere una frolla più croccante oppure per avere una frolla più friabile. Adesso iniziamo a buttare nel mezzo la farina in questo modo, ci puliamo anche le mani con un po' di farina, prendiamo la farina esternamente e andiamo a pulire le mani, in modo che stacchiamo tutta la parte grassa dalle mani. A questo punto iniziamo a fare questo gesto, cioè a sfregare la farina nella parte grassa. Man mano che si forma sempre più pasta bagnata e la vedo che si forma tipo dei granuli di pasta bagnata, posso iniziare a impastare con il classico movimento che si utilizza di solito, che è quello di schiacciare la pasta contro il tagliere. Andiamo a raccogliere bene tutta la farina, tutte le particelle che sono di lato e continuiamo ad impastare in questo modo. Tutti fanno di solito un panetto con questa pasta frolla, cioè compongono un panetto quadrato da mettere in frigorifero, ma se io compongo un panetto quadrato prima che la pasta si raffredda all'interno ci vuole tanto tempo. Allora un segreto è quello di prendere il foglio di carta da forno, mettere, dove abbiamo anche quello che abbiamo usato per il burro prima, mettere l'impasto nel centro, schiacciare con le mani in questo modo, stesa così chiudiamo la pasta frolla a pacchetto e la riponiamo in un frigorifero. Ci sono due tipi di cotture da fare, una è la cottura in bianco di una pasta frolla, dove significa mettere la pasta frolla in uno stampo e cuocerla senza un ripieno all'interno. Naturalmente questo lo si fa per una crostata di frutta, per esempio, dove la frutta noi non la vogliamo cuocere nel forno. Oppure ci sono le classiche cotture per le crostate, tipo le crostate con i ripieni, come magari con la marmellata. In questo caso la pasta frolla viene cotta con il ripieno, quindi si stenderà la pasta, si metterà il ripieno e si cuocerà nel forno con il ripieno stesso. In ogni caso tutto questo dopo il riposo in frigorifero. Eccoci qua, prendiamo un po' di farina, ci mettiamo sul tagliere e andiamo a impastare praticamente di nuovo la pasta, come abbiamo fatto prima. Il risultato sarà questo, una pasta adesso di nuovo morbida e compatta da lavorare. Io adesso vi faccio vedere due applicazioni, una è preparare una frolla per una crostata classica con il ripieno e l'altra la cottura in bianco. Farina sotto e sopra nella frolla andiamo a stendere con il mattarello in questo modo. A questo punto, quando la pasta è tutta stesa così, possiamo avvolgerla intorno al mattarello, in questo modo, ci prendiamo la nostra tortiera e andiamo con la pasta dentro la tortiera, senza schiacciare altrimenti la pasta si taglia. Quindi a questo punto facciamo ruotare la tortiera e buttiamo verso l'interno la pasta in eccedenza. Dopo che abbiamo fatto aderire bene la pasta su tutti i bordi e anche gli angoli fatti bene, prendiamo la rotellina e all'altezza che decidiamo, che sia a un centimetro, un centimetro e mezzo, a tre centimetri, andiamo a tagliare la nostra pasta in questo modo. Teniamo ferma la rotella e facciamo ruotare la tortiera in questo modo. Veniamo alla cottura in bianco. Cottura in bianco cosa significa? Buccherellare con una forchetta, metterci della carta stagnola all'interno, in modo da non far scendere i bordi. Carta stagnola che aiuterà a evitare che i bordi della pasta scendano giù, perché altrimenti si rischia che la frolla scivoli nello stampo durante la cottura e la pasta scenda. A questo punto, una volta foderato lo stampo, andiamo a mettere dei fagioli secchi in questo modo, in modo da fare la cottura in pressione, in modo che la pasta non cresca e crei delle bolle sgradevoli sotto. Adesso andiamo in forno e mettiamo nel forno. Vediamo la cottura con la marmellata invece. Questo ripieno aiuterà la pasta a non crescere e quindi la pasta non ha bisogno di nessun peso all'interno. Il risultato da cotto è questo della cottura in bianco. Quindi togliendo la nostra carta con i nostri fagioli otteniamo un fondino di pasta frolla in questo modo. Questo con crema pasticcera sopra e della frutta fresca abbiamo fatto la classica crostata alla frutta fresca. Quindi questo è un po' il mondo della pasta frolla.